Buon lunedì a tutti voi, iniziamo subito con il segno dell'Ariete. Il vostro affare brillante vi metterà in mostra una giornata favorevole per gli incontri di cuore. Mercurio e Urano congiunti parlano di voglia e di divertimento. La combinazione astrale non sarà il massimo dell'affidabilità, ma vi farà vivere momenti indimenticabili. Toro, penserete ai vostri averi e a come gestirli personalmente. Un lascito sarà la scusa per farvi seguire da vicino e con più accuratezza le vostre risorse. Riservate più tempo al vostro patrimonio, favoriti gli investimenti, gemelli. Una giornata favorevole per l'amore, un incontro sarà fatale, nasce un legame importante e aprirà un nuovo capitolo per la vostra vita del cuore. Vi sembrerà prematuro pensare a un futuro, non mettete limiti al destino e dalla vostra parte. Cancro, la nostalgia vi taglia le gambe. Oggi sarà un giorno dove riaffioreranno alla mente vecchi ricordi, un amore lontano, forse anche un ripensamento. Se penserete di ritornare sui vostri passi bisognerà prima esserne sicuri, non solo di voi ma anche dell'altra parte. Leone, sfruttate il filone delle amicizie, saranno utili per quelle nuove attività in fase di espansione. Se vorrete partire senza intoppi e velocemente affidatevi all'esperienza e all'autorità di chi vi stima e apprezza sinceramente. Non sperimentate nulla, basatevi solo su quello che già conoscete ed è collaudato, Vergine. Un inizio di settimana splendido, sarete in perfetta forma e questo vi renderà particolarmente affascinanti, magnetici e leader incontrastati di una nuova squadra di lavoro. L'eloquio avvincente e conquistatore vi spianenerà nuove strade su cui andare a costruire a breve imminenti successi. Bilancia. Un progetto piacevole vi renderà l'inizio di settimana meno pesante, sarete positivi e inizierete la lunga e stressante maratona del lunedì mattina col sorriso sulle labbra. Una sorpresa vi renderà euforici. Un invito, un viaggio in dolce compagnia merita di essere accettato. Non sarà ancora amore ma ne ha molto simili gli aspetti. Scorpione. Attenti a non essere troppo magnanimi nello spendere perché rischiate, considerevoli e sborsi di denaro e pochi riscontri. Anche l'alimentazione dovrà essere accuratamente seguita. Giove in cancro e il sole in toro non solo vi portano a peccare con la gola, ma vi daranno un'incontenibile tendenza ad incrassare. Sagittario. L'istinto di autodifesa renderà arroganti. Se avete collaborazioni nell'ultimo periodo difficili e instabili, cercate di essere lucidi e non cedete ai nervi. Rischiate di impegnare la vostra attenzione laddove non occorre e perderete così di vista quello che necessita tenere sotto controllo. Capricorno. Le regole in ufficio le dettate voi, ma in famiglia è spesso il partner a programmare ogni passo che fate. Questo vi indispettirà rendendo l'atmosfera piuttosto tesa. Cercate un equilibrio e trovate un accordo. Non siate i soliti dispotici. Rischiate di alterare un equilibrio raggiunto acquario. La vita del cuore oggi avrà un bel da fare. È arrivato il momento di dichiararsi. Rischiate così di farvi sfuggire chi vi può fare felici solo per il vostro senso innato e rinunciabile di amicizia. Ma questa volta non potrà parlarsi solo di questo, cioè di amicizia. Il sentimento che vi lega è molto di più. Fatevi avanti. Pesci. Discussioni in famiglia per una vostra scelta azzardata. Datene atto a chi vuole il vostro bene. Non impuntatevi a metterlo. Rischiate di creare una tensione che vi si ripercuoterà contro durante tutta la settimana. Rischiate di creare una tensione che vi si ripercuoterà contro durante tutta la settimana.